allora ragazzi buongiorno questo video ormai deve iniziare così è dedicato a mia figlia vedo vedo cosa vedi un pesciolone che pesciolone inizia con la o orato 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 ciao ragazzi buon video buongiorno sono le otto e mezzo del mattino io sto andando un po a pesca qualche ora ho un pacco di coreano lo andiamo a consumare prima che muore in frigo appena arrivo in porto poi ci sentiamo ragazzi a dopo allora ragazzi buongiorno sono appena arrivato in porto ho già innescato un bel coreano per intero con la con la codina leggermente svolazzante ho portato anche l'altra canna ma non so se la metto perché tra poco forse si mette a piove quindi al momento iniziamo con questa andiamo a lanciare questa e vediamo che così una lungola con la forma della sicilia la forma della sicilia ora si sta un po deformando ma prima era la sicilia speriamo che mi porti fortuna quindi ora della vado pure ingoiata vediamo se riesco a sramarla e la lascio la piccola radella la lasciamo la piccola radella sul pagoretto la piccola radella la piccola radella la mia ragoste ragazzi ho cambiato posto qua sono con il vento alle spalle l'unica pecca è che c'è una rete ci proviamo lo stesso una retta e poi a casa qua con il vento di scirocco mi viene alle spalle poi sono leggermente più tranquillo come della zona dai ora vado a innescare e lanciamo A presto Grazie a tutti. 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 Non so se hai visto l'oratona, è uscita l'oratona, con un mix di bibi e coreano. L'oratona, l'oratona, mi ha fatto sudare per guadinarla. Speriamo che si è vista, avevo la videocamera accenso, speriamo che si è vista, io lo spero, comunque io non me l'aspettavo, ho cambiato posto dal porto dopo che ho preso quell'oratella, sono venuto qua e guardate qua che bel pescione, proprio a terra, un peccato perché devo andare via, perché già mia moglie mi ha chiamato due volte, comunque ragazzi, l'oratona finalmente è uscita e questa l'ho dedicata a mia figlia. Ciao ragazzi, ciao ragazzi.